10 arresti domiciliari e 15 divieti di allontanamento da Napoli a carico di appartenenti al movimento dei disoccupati BROS per manifestazioni di protesta nel capoluogo campano dal 2010 al 2014. L'inchiesta è su presunte azioni per ottenere trattamenti privilegiati per contributi, sussidi e posti di lavoro. Il reato più grave è contestato ai destinatari delle misure catolari l'associazione a delinquere per estorcere posti di lavoro. L'operazione ha provocato la reazione del movimento BROS sceso in piazza questa mattina per protestare contro il pugno di ferro della giustizia. Non ci aspettavamo questa azione da parte della magistratura quindi loro dicono comunque sempre le solite accuse dall'associazione a delinquere siamo comunque dei criminali perché oggi chiedere un lavoro per lo Stato vuol dire criminale non esiste più chiedere un lavoro perché è un diritto. E' la protesta comunque viene comunque definita una criminalità che noi ci uniamo per delinquere noi ci uniamo soltanto a gran voce per chiedere un nostro diritto che è il lavoro.